Napoli a ferro e fuoco. Il centro del capoluogo campano è stato teatro di un violento scontro tra i tifosi dell'Eintracht sia con gli Ultras del Napoli che con la polizia. Centinaia di sostenitori della squadra tedesca in città per assistere alla partita di Champions League si sono radunati in Piazza del Gesù dove, spalleggiati dai tifosi dell'Atalanta, hanno lanciato razzi, pietre, bottiglie e altri oggetti. Diversi i negozi devastati e le auto incendiate, tra cui una volante della polizia. Gli agenti, sopraffatti, hanno risposto sparando gas lacrimogeni. La maggior parte dei tifosi è stata ora evacuata dalla città in autobus. Piovono critiche sul ministro dell'Interno Piantedosi per non aver evitato lo scontro frontale, nonostante si conoscesse l'esplosività della situazione.